Amici fantallenatori bentornati da Carmi Speciale, siamo con i consigli al fantacalcio per la diciottesima giornata di Serie A L'ultima del 2023, incredibile, un anno assurdo questo per la nostra community A tal proposito, oltre ovviamente a raccontarmi come vi sta andando al fantacalcio, lasciare like eccetera Vedo che un terzo circa di coloro che guardano i video non è iscritto al canale E come vedete manca poco per arrivare ai 100.000 iscritti Quindi se vi piacciono i miei contenuti, se li trovate utili per qualche motivo, diciamo, iscrivetevi ragazzi Ok, iscrivetevi Troverete tanti contenuti anche per l'assa di riparazione, tanti strumenti per il fantacalcio, studi particolari Anche contenuti sui social, seguitemi ovunque, ovviamente Andiamo a vedere gli indici di iscrivibilità che come sempre li troviamo su Fanta Lab Pettaforma utile per sia i fantacreators che per i fantallenatori Tanti allenatori possono caricare la propria cosa, analizzarla, studiare ogni singolo giocatore Voglio studiare, che ne so, di Lorenzo che è un po' fuori forma ultimamente eccetera Analizza il tutto, statistiche e così via Ok, quindi potete veramente sfruttare una marea di strumenti Trovate una playlist apposita sul mio canale, sui vari strumenti che ci sono su Fanta Lab Andiamo a vedere gli indici di iscrivibilità Vi ricordo che questa giornata si inizia di venerdì alle 18.30 Quindi attenzione, ok? E si inizia con Fiorentina-Torino Ora, io ho messo come pronostico 1-1 Consigliati Beltran e Zapata Dai quali mi aspetto un possibile più 3 Scosigliati invece ho messo Ricci e Tamesa Risco, secondo me, cartellino o insufficienza Nelle scommesse Vlasic è sottile perché saranno coloro che si prenderanno un po' la squadra sulle spalle Cercheranno anche di servire i compagni per un possibile più 1, un assist Altri nomi con l'indice buono, vado a zoomare un pochettino Ragazzi, sono Buongiorno chiaramente Da lui mi aspetto la solita grande prestazione Forse Rodriguez che è abbastanza costante Idem e Cagliudè Altri nomi un po' scommesse invece La scorsa giornata l'avete messo Ilic? Vi ricordate che ne avevamo parlato del Fandatattics? Beh, Ilic è un gol fortunoso Però effettivamente è segnato, incredibile Lo si può riconfermare insieme a Icone Che si è magnato un gol davanti la porta Però quando succedono queste cose Comunque significa che il giocatore è sollecitato offensivamente In ogni caso Ok, tra i possibili stupendanti Si è rivisto, bisogna dire Radonich, no? Radonich Però non sappiamo effettivamente Se è una cosa in vista del mercato Vediamo un po' Buonaventura in forza Perché non sta benissimo Trovate anche le informazioni Sugli acciacchi Tra una al piede destro In dubbio Quindi voi, caso mai schieratelo Lo stesso, magari con copertura Ok Ho messo una 1 come pronostico Ma potrebbe venire fuori Anche una vittoria di misura della Viola Essendo in casa Arbitra Federico Lapenna Vediamo velocemente le sue statistiche 5-17 Ammunizione a partita Quindi occhio anche al discorso Ammunizione Quindi ai giocatori un po' più ruvidi Napoli-Monza Qui ho messo 2-1 come pronostico Consigliati Raspadori E Simeone 7.2-7 come indice di schierabilità per loro Che vista l'assenza di Osimene Che è un po' anticipata Perché si è fatto espellere Prima ancora della Coppa d'Africa Potrebbero sfruttare adesso le loro chance I sconsigliati invece sono Gaiardini e Pighizzo Per il discorso chiaramente cartellino Tra il proposito Arbitra però di Bello Che ha una statistica molto bassa Per le munizioni 3-0-50 Invece per i rigori Occhio Le scommesse Ho messo Colombo Perché gli porta bene un po' Diciamo Napoli Vi ricordate il gran gol Che aveva segnato proprio a Meret Dopo aver sbagliato un calcio di rigore E Lindstrom Perché vista la squalifica di Politano È molto probabile Che andrà a subentrare Almeno una buona porzione di partita E magari può essere la volta buona Che lo si schiera E che faccia qualcosa Altri nomi da poter schierare Con indice abbastanza buono Sono Zelinski E il solito Colpani Di Lorenzo Come detto Anche se ultimamente È un po' più discontinuo Ma comunque Gli si può dare fiducia E ovviamente Non lo lasciamolo fuori Potete magari lasciare a riposo Un po' di giocatori del Monza Per questa partita Qualche difensore del Napoli Che può Diciamo ancora andare in difficoltà In questo periodo Non sono proprio Tutti in forma Tra i possibili subentranti Il giocitato Lindstrom Come detto Valentin Carboni Forse mi sono dimenticato Ad abbassare l'indice L'ho aggiusto un pochettino Poi Casomai Questi Possibili subentranti Del Monza Come vedete Non li ho Ridoccati Troppo Ci vanno a mettere Un 6.3 Valentin Carboni Che è molto Abile Anche a partita in corso Però Potreste avere Scelte migliori Ok Infatti tutti Indici sotto Al 6 Passiamo alla prossima partita Dai Genoa Inter 0-2 Come pronostico Partita che può essere Un po' pazza Perché A Marassi Vengono sempre fuori Partitoni strani Ok Quindi Occhio Arbitra Doveri 0-40 Rigori a partita 3-50 Munizione a partita E 0-20 Espulsioni Come pronostico Come detto 0-2 Consigliati Carlos Augusto E Arnautovic Arnautovic Se lo ricordate Era nelle scommesse Insieme a Bissec La scorsa giornata Arnautovic Assist Bissec Gol C'era pure Barella Riconsigliati Però Io faccio pochi nomi Come vedete Non è che ci metto tutti Non è che ci metto Ovvio che Turam è consigliato Ovvio che Mkhitaryan Cialanoglu Barella Sono consigliati Però cerco Magari di non mettere Quelli scontati E comunque Sono andati bene Lo stesso Sconsigliati De Winter E Sabelli Ovviamente A rischio Per i duelli Personali Con Con Carlos Augusto Per quanto riguarda Sabelli E De Winter Con Turam Arnautovic Quindi occhio Scommesse ancora Bissec Sfruttiamo questo Momento Doro E visto che gioca Sfruttiamolo Se lo avete preso E frattesi Frattesi Che sta trovando Poco spazio Però in questa partita Magari potrebbe avere Quei 20 minuti Buoni Per magari Trovare Un bonus Ovviamente Tutti gli altri Dell'Inter Ragazzi Metteteli comunque Sono tutti Con indice Intorno all'8 8 Passa Sono tutti Molto propensi Al buon voto Del Genoa L'unico Appunto È Gudmundson L'unico Schierabile Gli altri Li lascerei Se possibile Fuori Magari Evitiamo Di andarci A prendere Possibili Insufficienze Tra i possibili Subentranti Oltre al Giaggirato Frattesi In leghe numerose Se avete copertura Si può provare Magari un Sanchez Oppure Per la difesa E provarlo Da un Fris Però Attenzione Non è detto Non si sa bene Poi chi andrà A subentrare E a che minuto Andranno A subentrare Quindi Attenzione Passiamo A Lazio Frosinone 1-1 Il mio pronostico Arbitra Felicianni Tre munizioni Partita Sul pronostico Immetto Che ero Molto indeciso Perché Ero tentato Sul 2-1 Vista Anche La La disparità Un po' A livello di forza Sulla Carta Ok Tra le due squadre Il problema È che mancano Luiz Alberto Immobile Per la Lazio E quindi Anche Le sostituzioni Non è che siano All'altezza Inoltre Frosinone È comunque Una squadra Che ti mette Spesso in difficoltà Anche Parte Sbandaggiata L'abbiamo visto Anche un po' Con la Juventus Abbiamo visto La prestazione Fatta a Napoli Quindi potrebbe Effettivamente Venire fuori Una partita Molto equilibrata Quindi Dall'analisi Mi veniva fuori L'1-1 Poi Consigliati Felipe Anderson E Castellano Se è una buona giornata Per provarlo Sconsigliati Invece Garritano E Barrenecea A rischio cartellino Scommesse Camada Che Sostituendo Luiz Alberto Dovrebbe avere spazio La scorsa giornata Vi ho consigliato Guendosi E ha segnato Stavolta proviamo Anche Camada Guendosi Lo confermo Indice pari a 7 E a Rui Che non è dato Il momento titolare Ma potrebbe comunque Avere spazio Per quanto riguarda Le formazioni Diciamo Probabili Domani magari Avrete informazioni Più dettagliate Adesso alcuni giocatori Che sono In ballottaggio Ovviamente Zaccani Si conferma Visto che si sta Un po' Riprendendo Della difesa Della Lazio Lascia Rimpostare Perché alcuni duelli Potrebbero essere Un po' Pericolosi Un po' Meglio Invece Prove In ottica Anche Modificatore Del Frosinone Il più schierabile Chiaramente Sule Poi Caio Giorgio Ibrahimovic Gli altri Forse li potete Lasciare In lega Molto numeroso E potete valutare Un Monteresi Magari Per le palle Inattive Tra i subentrani Già citato Come detto A Rui Vediamo se Recupera Riniere Ma non credo Forse Mazzitelli Potrebbe essere Della partita Attenzione Anche Un giocatore Ve lo cito Adesso Per monitorarlo Qualora Dovesse giocare Matteo Deluso Ardi 1,90 Ragazzi Un giocatore Altissimo Giovane 19 anni Mi piace Come giocatore Però Chiaramente Al momento È un po' Coperto Nelle gerarchie Ogni tanto Giocatore Mi pare In Coppa Italia La scorsa partita Occhio Che potrebbe In futuro Essere interessante Questo giocatore Secondo me Ne sentiremo Parlare Più avanti Ok Altri nomi Da poter citare Petro Isaksen Però con copertura Ragazzi State un po' Attenti Vedremo se Casale Romagnoli Recupereranno Per essere del match Ma non è Non è sicuro Prenderanno il voto Passiamo ad Atalanta Lecce Arbitra Manganiello Un rigore a partita Quindi occhio 3,67 Ammunizione a partita E 0,33 Espulsioni Attenzione Poi Pronostico Messo 2 a 0 Vedo l'Atalanta Favorita Penso si porterà a casa I tre punti L'unico dubbio Che ho E sulla formazione Non abbiamo ben chiaro Chi potrà giocare Perché Scamacca Ad esempio Ieri sera Stavo facendo gli indici Dallo davano consigliato Alcune redazioni Adesso danno invece De Ketelare Non si capisce Voi chiaramente mettete Se possibile Un po' I giocatori Che avete preso Della Dea Consigliati infatti Ho messo Scamacca E Ruggeri 7,7 Era l'indice Che io ho messo Perché dato titolare Probabilmente Lo abbasserò Un pochettino Intorno al 7 Qualora dovesse partire Dalla panchina Però comunque Voi Casomai Schieratelo Con copertura Ruggeri consigliato Scommesse Zappagosta E Strefezza Ruggeri ovviamente Un po' più costante Di Zappagosta Quest'anno Però comunque Entrampi Sono giocatori Molto propensi Al bonus Zappagosta comunque Va spesso al tiro Ragazzi Se non avete Questi gran fenomeni In difesa Schieratelo lo stesso Ho messo Strefezza Nelle scommesse Perché comunque La tipologia di partita Con l'Atalanta Che soffre un po' In contropiede Potrebbe Fare in modo Che riesca Ad avere qualche occasioncino Gonzalo e Segallo Invece Risco Cartellino Altri nomi buoni Chiaramente Cup Winners De Gedelare Ma anche Ovviamente Luckman Con indice 8.3 Molto alto Cup Winners pure Poi cito anche Scalvini Che potrebbe Magari avanzare Un pochettino A avere qualche occasione Eviterei un po' Quasi tutti i giocatori Dell'Eccesso Inceramente Saggiornata E Pasadice Muriel Volendo Con copertura Si possono schierare Così come già citato Scamacca Vedremo Se sarà titolare Se avrà Una porzione Di partita A disposizione Io sinceramente Se non avete Sti gran fenomeni In attacco E in questo periodo Ho visto gli infortuni Mi pare difficile Lo schiererei Però Assicuratevi Una copertura Ok Passiamo a Cagliari Empoli Arbitra Maresca Con 5.20 A munizione A partita 0-60 Rigori A partita Quindi Occhio ad entrambe Occhio ai giocatori ruvidi E a schierami Rigoristi 2-1 Il pronostico Mi aspetto Un Cagliari Favorito Ero indeciso Addirittura Sul 2-0 Perché Secondo me Il Cagliari Dovrebbe avere la meglio In questa sfida Consigliati Ho messo La Padula E Luvumbo Luvumbo Magari più per l'assist E la Padula Più per il gol Di testa è molto forte E l'Empoli Questo fattore Lo subisce molto E infatti Nelle scommesse Ho messo Viola E Dossena Viola più per l'assist E Dossena Perché è fisicato E altro Può fare bene Su palla inattiva Sconsigliati invece Malei Sbaili A rischio Cartellino O insufficienza Dell'Empoli L'unico Forse Baldanzi Che andrei a provare E leghe numerose Magari Un Cambiaghi Ok E buoi Però Valutate qui In base anche All'alternativa Massimo Pazzini Ok Nel Cagliari Invece c'è un po' più scelta Oltre a Dossena In difesa Si può valutare Augello A centrocampo Oltre a Viola Anche Prati Può essere interessante E valutate Iancuto Però con copertura L'Uvumbo La Padula Già citati Potrebbero far bene Se avete invece Un po' a voletti Assicuratevi di avere Qualcuno In panchina Che vi compra Ok Perché comunque Non sappiamo Il minutaggio Che avrà Lo stesso vale Per Oristanio Sono nomi che potete Magari lanciare Se vi intrigano Però Mi raccomando Non rischiate L'inferiorità numerica Lo stesso vale Un po' per Caputo Perché non sappiamo Come sta Quanti minuti Avrà a disposizione Quindi Se lo schierate Assicuratevi di avere Un voto Certo In panchina Passiamo A Udinese Bologna Qui era un po' Indeciso Sul pronostico Perché non vorrei Che diventi Una partita Un po' a trappola Messo poi Alla fine 0-1 Quindi una vittoria Un po' di torto muso Del Bologna Un po' come è stata L'ultima Con l'Atalanta Arbitra orsato Con 0-17 rigori A partita E 4-83 Ammonizione A partita Quindi intorno alla media Superciù Un po' sopra Forse cartellini Consigliati Ferguson e Orsolini Ferguson ragazzi Sempre nel vivo Delle azioni Comunque molto Sollecitato Offensivamente E lo stesso Può essere Orsolini Tra l'altro Si è infortunato In doia Appena è entrato In forma A far bene Eccala Se è cercato pure lui Benissimo La sfiga Non ci abbandona mai Wallace Cabasele Sconsigliati Rischiano veramente Il cartellino Scommesse Pereira E Samarzic Quindi vedo Favorito il Bologna Valutate Se avete Samarzic Pereira Di poterli Comunque Schierare Come scommessa Se le alternative Soprattutto Sono nomi Non molto offensivi Ok Gli altri giocatori Dell'Udinese Non mi ispirano Forse Camarà Che ultimamente È abbastanza In forma Comunque costante Più che altro È Lucca Magari qualcuno Che vi dà Più garanzia A livello di Minutaggio Più che altro Però altrimenti Utilizzatelo Con una Discretta copertura Se avete magari Un mediano A metterci dietro Qualcuno di questo tipo Però non mi aspetto Che sa cosa Che sa cosa sta giornata Passiamo a Milan Sassuolo Pronostico 3 a 1 Un po' pazzo Non so se effettivamente Il Milan Riuscirà a video Perché Sassuolo È un po' particolare Soprattutto con le big Con le milanesi Per Arvi Timbra Quasi sempre Quindi attenzione Arvi tra Marinelli 0-33 Rigori a partita E 6 ammonezione A partita Quindi occhio Espulsioni 0-33 Quindi un'espulsione Di 3 partite Quindi attenzione Al discorso Cartellini E ora infatti Arriviamo a un duello Particolare Di questa partita Consigliati chiaramente Ricciilu Renderson Anche Leau E Pulisic Chiaramente È un indice Molto alto Per loro Ok Calabria Ferrari Scosigliati Scommesse La Oriente E l'Oftusic Parliamo appunto Di questo duello La Oriente Calabria Ho osservato un po' Il Milan E sulla destra Oggettivamente Soffrono Anche un po' Sinistra a volte Però Calabria Anche se fa qualche Buona chiusura Almeno Fa un po' Stare con l'ansia Quasi la squadra E la Oriente Potrebbe metterlo In difficoltà Così come Dall'altra parte Per Arvi Però Attenzione a questo Aspetto Quindi potrebbe Essere un duello Decisivo E la Oriente Potrebbe far prendere Una munizione A Calabria Poi altri nomi Da poter provare Come detto Il Giorgio Dato Lovtusik Ben Nassar Dall'altra parte Berardi La Oriente Il legge Numerosa Magari non avete Alternative migliori Potete provare Pinamonti Matheus Enrico Torsvert Però Non so Effettivamente Quante occasioni Da gol Avrà Il Sassuolo Qualcuna Sì Infatti ho messo Come detto 3 a 1 Tre possibili Subentranti Ma mi viene in mente Allora Purtroppo alcuni giocatori Sono mezzerciaccati Tipo Musa Arbitra Mariani 4 a 17 Munizione A partita 0 a 33 Espulsione A partita 1 a 1 Il mio pronostico Perché la vedo Un po' Equilibrata Come sfida Il Verona Avviene da Un'interessante Vittoria Contro il Cagliari La Salernità Nata Un bel pareggio Contro il Milan Comunque Si daranno Secondo me Battaglia Consigliati Ho messo Candreman Gonge Quindi Quelli Due Più pericolosi Effettivamente Per il bonus Quindi sono andato Un po' Con nomi scontati Nomi sconsigliati Invece Pirola Legoschi Brischiano Secondo me Un po' L'insufficienza Scommesse Lazovic E Castanos Che potrebbero Tornare Al bonus Altri nomi Da poter provare Djuric Djuric Ultimamente Ragazzi Vi faccio vedere Il suo trend È diventato Un giocatore Da fantacalcio Da che non lo era Completamente Se ci mettiamo Oppure che ha sbagliato Un rigore Alla sedicesima giornata Praticamente Avrebbe avuto Nelle ultime Cinque giornate Un rendimento Da top di reparto Ce lo ha Quasi 7.8 Nelle ultime Cinque Se consideriamo Il rigore sbagliato È clamoroso Comunque Altri nomi Già citato Castanos Colibali Quei mesi Per volendo Scherare nomi Ignoranti Osserviamo Un giocatore Su Slov Lo sto osservando In vista Del fantattic Xen In vista Anche Nelle aste Di riparazione Ok Diamoci un'occhiata Terraciano Terraciano Arbitro Per quanto riguarda Quella della Roma Christensen Locatelli Infatti Sconsigliati Scommesse Ignoranti Così Weah E Milik Milik In questo tipo Di partite Si esalta Trova un modo Di timbrare Il cartellino Altri nomi Da poter provare Sono Kostic Volendo Spinazzola La difesa Della Juve Già citata E del Scherawi L'unica cosa Per quanto riguarda Difensori Giocatori Un po' Comediani Attenzione Al discorso Come detto Cartellini Ok Osserviamo Ancora Ildiz Per vedere Se Entra Con un buon minutaggio Magari fa Qualche altra Buona giocata Clamorosa Quella Contro Il Frosinone Detto ciò Questi erano Tutti gli indici Di schierabilità Ragazzi Dai Spero Vi auguro Ovviamente Buona fortuna Fatemi sapere Come vi sta andando Il Fanta Calcio Ovviamente Iscrivetevi Se non siete ancora Iscritti Mi raccomando Seguitemi sui social Dove pubblico Comunque diversi contenuti Anche un po' Particolari A volte Molto più brevi Però comunque Interessanti E poi a breve Ci saranno I contenuti Sull'asta di riparazione Sulla Coppa d'Africa Su Il 2023 Sul 2024 Tanti contenuti In arrivo Quindi iscrivetevi Attivate la campanella Ci vediamo In un prossimo video Un abbraccio E buona fortuna D'accordo in special Ciao